Il passato non è perduto. Il passato vive dentro di noi. Dentro il DNA si trovano le esperienze dei nostri antenati. Dopo 30 anni di ricerche, i nostri ingegneri hanno inaugurato una nuova era della biotecnologia. Abbiamo svelato le vite dei nostri antenati e aperto una finestra sul passato. È un'immersione integrale, totalizzante. Basterà premere un pulsante per rivivere i momenti più importanti della storia. Tutto questo dal divano di casa. Benvenuti a Enix. Dove il passato diventa tuo.